Assolto perché il fatto non costituisce reato, il Tribunale Monocratico di Taranto ha prosciolto un uomo di 51 anni, assistente capo della Polizia Ionica, dall'imputazione di omicidio colposo. I fatti si riferiscono al gennaio 2013, quando procedendo con la propria autovettura sulla Statale 7 nei pressi di Palagiano alle 7.30, l'uomo investì un signore di circa 80 anni che si accingeva ad attraversare quel tratto di strada. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed attraverso la meticolosa attività della consulente di parte, si è dimostrato che sulla strada il limite di velocità era fissato in 70 km orari al momento del sinistro, diversamente dai 40 km impressi sulla segnaletica esistente e che ciò nonostante il conducente provvedeva ad una velocità inferiore rispetto al limite a causa di una improvvisa coltre di nebbia che non era stata evidenziata nel corso delle indagini preliminari. Il consulente di parte, attraverso una indagine presso l'Istituto Meteorologico, ha accertato che in quel giorno, in quella particolare zona, dalle 7 alle 7.45, era stata una folta nebbia che limitava la visibilità della strada. Il Tribunale, pertanto, tenuto conto della circostanza, della moderata velocità tenuta dall'imputato e della provata sufficiente prudenza, accogliendo le osservazioni della difesa, ha ritenuto di assolvere l'imputato, nonostante la pubblica accusa avesse chiesto una pena detentiva pari a quattro mesi di reclusione. L'imputato è stato difeso dall'Avvocato Emilio Attavilla.